Amarone normalmente ha 2 anni per 2 anni dal prodotto della vintage. Ma Zenato, per esempio, normalmente ha amarone per più lungo. 3 anni per il normale Amarone e 4 anni per la riserva di Amarone. E usiamo, per la nostra tradizione, principalmente grandi barri di slovonia e francese. Durante la tradizione, il vino raffina il colore, il vino raffina i tenni e si diventa pronti per piacere in 3-4 anni. Questo è il nostro metodo di produzione e anche il metodo di produzione della maggior parte della famiglia di Amarone. gruppi di famiglia. Le altre casche, usate per l'esercito di Amarone, sono normalmente a temperatura di... ... 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 ma anche alla fine temperatura dell'agente. Non è così importante per il vino rosso avere controllo di temperatura e una temperatura fixata come per i vini bianchi. I vini bianchi sono più delicati ed è molto importante restare il vino alla fine temperatura.